Andiamo ora a rinforzare un po' il concetto di forzatura dei type perché è veramente importante. Prima di andare a vedere una funzione un pochino più complessa, che fa qualcosa di un pochino più dedicato, ovviamente tutto simulato nel nostro immaginario. Questo è il sign up del mio user. Ecco che se io vado a definire che ho name, solo, diciamo name, email seguito da ispaid, ad esempio, che ne so, magari bisogna pagare per allogarsi. Se io qua non vado a mettere nulla, chiunque in questa funzione si andrà a fare completamente gli apparacci suoi e ci metterà quello che vuole. Quindi chiama sign up, adesso questa funzione non fa assolutamente nulla, ma se gli passa 1, 2 e 4, questa funzione ovviamente non piange, non ci dice niente, quindi si spaccherebbe tutto quanto, ma comunque nessuno sta dicendo niente. Noi è proprio qua che andiamo effettivamente a dire che questo deve essere una stringa, che questa deve essere una stringa e che paid deve essere un booleano. Un bel booleano. Ecco che a questo punto la nostra funzione ovviamente si va a spaccare. Voi dite ma mi dà solo un errore? Sì perché ti dice, tanto già da qua non vai avanti, quindi tu qua devi mettere David, David, qua devi mettere Parenzo e a questo punto devi mettere true. Ultimo piccolo concetto, possiamo dire che se io però questo parametro di ispaid non lo volessi obbligatorio, ecco io ho due soluzioni. La prima è quella di andare a marcare quello che è questo parametro con questo punto interrogativo, che vuol dire che può essere anche undefined. Quando però un parametro è undefined, diciamo che una buona prassi è quella di andare a dargli un valore di default, piuttosto come alternativa. Oppure ho l'alternativa di andare ad aggiungere quello che è un parametro di default e togliere quello che è il mio ispaid. Insomma queste sono le due opzioni che ho. Quando si lavora con le funzioni, secondo me questa diciamo è preferibile, nel senso che almeno so che assegnerò un valore di default a questo elemento, non avrò un valore di undefined perché questo errore qua vuol dire che paid può anche essere undefined. Almeno comunque lui rimane nel mio type. Ovviamente false undefined sono entrambi falsi e non if restituiscono entrambi false, però è una questione più di corrette. E ora se mi sposto nella parte compilata di codice mi posso rendere conto che signup va a fare un controllo che io nel mio typescript non vedo, ovvero va a fare quel check in cui paid, qualora appunto fosse uguale uguale a questa condizione di void zero, va ad essere riassegnato a quello che è il valore di false. Questo è il modo in cui va a riassegnare esattamente un valore di default, quindi under the hood accade questo quando ho questa dicitura. Quando invece vado a portarmi effettivamente questa dicitura, vado a salvare, quindi vado a ricompilare, ecco che lui viene mantenuto nella stessa versione. Perché is paid, ovviamente poi qua siamo in javascript e quindi è giustamente tutto any, però è un parametro che può essere preso ma non è necessario, può essere anche in default. Quindi questa è un po' la differenza di quello che accade realisticamente lato codice passando un valore di default oppure dicendo che è un parametro opzionale.